Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube, Rita Chef Channel. Oggi prepariamo un meraviglioso dessert al limone senza cottura. Questo dolce è un ottimo fine pasto, rinfrescante e digestivo. Prima di andare in cucina vi ricordo, come al solito, di iscrivervi al mio canale, se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare una miscela di zucchero e limone. Quindi nella ciotola più grande, rigo la buccia di limoni biologici. E adesso aggiungo in ciotola lo zucchero a velo. Vi ricordo che tutti i pesi degli ingredienti del dolce li trovate scritti in info box sotto il video. Miscelo scorsette e zucchero con la spatola. In questo modo otterremo un dolce profumatissimo. Adesso attendiamo giusto 10 minuti. Dopo 10 minuti di riposo continuiamo la nostra preparazione. Aggiungiamo in ciotola uno yogurt al limone. E misceliamo. E poi aggiungiamo il mascarpone. Chi di voi non vorrà utilizzare il mascarpone potrà utilizzare al suo posto lo stesso peso di ricotta. Magari una ricotta vaccina. Io sto lavorando con una marisa ma se volete potrete utilizzare anche il frullatore. Ma a velocità minima. Vedete man mano che si lavora questo frosting diventa sfumoso. Questo frosting è pronto. Procediamo a montare la panna. In questa ciotola ho appena versato della panna vegetale. Ora andiamo a montarla aggiungendo il succo di uno dei due limoni a cui abbiamo tolto le scorsette. Tutti i pesi come al solito sono in info box. E fa rego di riscaldi dicciare al mascarpone. in meno di due minuti abbiamo ottenuto una panna super montata adesso aggiungiamo a panna e limone il frosting preparato in precedenza e ora misceliamo a bassissima velocità per pochi secondi la crema per il nostro dolce è pronta e la mettiamo momentaneamente in frigo ora prepariamo la bagna a freddo del nostro dolce utilizziamo acqua minerale naturale spremuta di limone questa è la spremuta di uno dei due limoni a cui abbiamo tolto le scorzette e zucchero nella ciotola dell'acqua verso subito il limone io non ho filtrato il succo se vorrete potrete farlo e poi aggiungo lo zucchero e misceliamo con una spatolina come base del dolce come avrete visto utilizzo i savoiardi e adesso bagno i savoiardi nella pagna appena preparata e li dispongo all'interno della mia pirofila ho appena ripreso la crema dal frigo e distribuiamo la crema sui savoiardi ok 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 e ora ripetiamo esattamente la stessa operazione niente di più semplice ora ho messo il resto della crema all'interno di un sac a poche dove ho messo una punta vedete liscia da un centimetro e rifiniamo il dolce ora mettiamo una piccola decorazione ma questa è facoltativa quindi decidete voi se metterla o meno sono sufficienti così due fette di limone e un pizzico di colore dato da una fogliolina di menta ecco e il nostro dessert freddo al limone è pronto per essere gustato ora questo dolce non lo possiamo tagliare perché dobbiamo tenerlo in frigo per almeno tre ore bene anche per oggi è tutto io spero che il mio dessert al limone sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti a condividere le mie video ricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video un grande abbraccio a tutti voi da Rita